Sono stati presentati ieri sera al comune di Battipaglia i risultati del progetto sul monitoraggio della qualità dell'aria Safe Break Battipaglia, realizzato dal Rotary Club Battipaglia in collaborazione con Sand Square e con il patrocinio del comune. I primi rilevamenti, raccolti in seguito all'installazione delle centraline per il controllo dell'inquinamento ambientale, sono stati diffusi nell'ambito della tavola rotonda dal titolo Qualità dell'aria, un impegno per il cittadino e le istituzioni. La situazione in questo momento com'è? Con questi dati sono confortanti? Abbiamo dei momenti in cui vanno fuori range normativo e questo ci sta consentendo di approntare dei controlli mirati in determinati giorni, in determinate ore e questo è uno degli aspetti importanti di questo progetto perché ci consente di fare degli interventi mirati, così senza lavorare nel buio, partiamo da situazioni più precise. Quindi con Safe Break si tende anche a prevenire? Certamente, si tende a prevenire, si tende, credo, oltre ad un potente mezzo di controllo che ha l'amministrazione sul territorio è anche secondo me un deterrente per chi pensa di eludere le norme ambientali e purtroppo devo constatare che non sono pochi i furbetti, quindi questo penso ci consente anche di tenere sotto controllo quest'altro aspetto. Diciamo che quest'anno il Rotary ha profuso tutte le sue energie nel tema ambientale non c'è risultato difficile visto il problema che la nostra cittadinanza sta vivendo lo abbiamo fatto combattendo quello che abbiamo ritenuto fosse il nocciolo della questione ovvero l'incertezza nella quale ha navigato finora la nostra popolazione e i nostri amministratori abbiamo cercato di sopperire al problema ponendo sul tavolo un metodo scientifico un metodo valido che potesse darci dei dati inconfutabili in merito all'inquinamento ambientale Adesso quindi le soluzioni? Bene, oggi diciamo così rappresenta un pochino il primo step del nostro progetto Oggi dopo due mesi di test delle prime centraline che abbiamo installato saremo in grado di diffondere i primi dati raccolti ma soprattutto la cosa più importante è sottolineare per i cittadini che da oggi lanceremo l'applicazione telefonica che consentirà a tutti i cittadini di monitorare quotidianamente lo stato di inquinamento di Battipaglia Ad oggi abbiamo avuto dati per due mesi e mezzo essenzialmente e mostreremo i risultati più un modello previsionale dell'inquinamento in teoria, non oggi, però nel futuro, oggi mostriamo soltanto l'inizio del modello potremo essere in grado di prevedere i picchi di inquinamento il giorno dopo o due giorni dopo C'è anche un'app che state studiando proprio per migliorare e avere un rapporto continuo anche con i cittadini? È chiaro, oggi lanceremo per la prima volta l'app Sense Square con cui sarà possibile a chiunque visionare, visualizzare i dati del monitoraggio in tempo reale chiaramente è un'app beta, chiamiamola così, la stiamo chiaramente migliorando anche perché il numero di sensori cresce esponenzialmente Grazie a tutti